Musica Continua ad arricchirsi il parco mezzi della misericordia di Arezzo. Dopo le due ambulanze e l'automezzo speciale consegnati domenica scorsa, a breve arriverà un altro mezzo che sarà messo a disposizione da eventi sociali nell'ambito del progetto Muoversi e non solo. Per noi sono importanti questi mezzi perché sono la vita dell'associazione. E certamente la misericordia da sola non solo può permettere anche l'acquisto degli automezzi in quanto noi viviamo soltanto con i rimborsi spese dei servizi che effettuiamo per conto dell'azienda sanitaria e della regione. Attualmente trasportiamo con l'altra associazione circa 90-95 persone oltre che poi i servizi che facciamo sanitarie sempre con gli stessi automezzi. Quindi eventi sociali insieme a noi abbiamo fatto un accordo che è già stato donato, quindi questo pulmino. Da oggi parte un'altra raccolta per un nuovo mezzo che sarà al momento della fine raccolta donato alla misericordia per fare questi servizi. Parte adesso questa nuova campagna da oggi e che il tutto verrà fatto proprio per finalizzare un pulmino 9 posti completamente attrezzato con il difibrillatore a bordo e in più per i prossimi 4 anni verranno garantiti i cambi gomme in estate e inverno, i tagliandi di manutenzione, bollo, assicurazione e anche la casco. Tutto viene fatto grazie al cuore e alla generosità degli imprenditori, dei commercianti qua di Arezzo che per i prossimi 4 anni avranno l'opportunità di legare il proprio logo, il proprio marchio aziendale alla misericordia.